si può essere capo si può essere presidente di qualcosa o vertice di qualcos'altro ma non per questo si diventa automaticamente il leader ma come si fabbrica un leader quali caratteristiche sono necessarie e quali invece bisogna abbandonare a queste e ad altre domande ha cercato di rispondere il libro di Gianluca Giansante leadership teorie tecniche buone pratiche e falsi miti presentato ieri a Chieti ci sono tantissimi libri sulla leadership ma andando in libreria mi sono reso conto che erano tutti i racconti dell'esperienza di grandi leader che raccontavano la propria storia non c'era un testo che raccontasse cosa ci dice la scienza su come si diventa leader o come si perde la leadership ecco in questo testo ho provato a fare questo a partire dalla definizione di leader che non non è diventare direttore capo presidente amministratore delegato ma essere capaci di guidare un gruppo di accompagnare un gruppo di persone per raggiungere degli obiettivi condivisi degli obiettivi comuni quindi in questo senso il leader non è solo il numero uno ma è qualsiasi membro di un gruppo che può giocare un ruolo per accompagnare il gruppo verso un risultato comune invece per disgregarlo si propone per la politica certo ma non solo per la politica una visione un modello di leadership che è inclusivo che è dedito all'ascolto al confronto una capacità di esercitare la guida di un gruppo di una comunità o di un'azienda piuttosto che di un organismo di altro tipo che sia più ispirato al modello di primus inter pares di chi promuove le persone guida le persone le professionalità o i partecipanti a un ente collettivo e non il modello di leadership per così dire autoreferenziale solitario